Pre-Gara a Novara con una battuta con il nostro libero, Monica Acquistapace, che hai già giocato quest'anno, avete già giocato Monica contro la formazione di trecate, però diceva Maurizio, era a settembre, infatti anche loro doveva essere la Serie A, in realtà poi era la squadra che dovevamo incontrare noi, so che c'erano il palleggio che era il secondo della Serie A e il libero che era il secondo della Serie A, e quindi sono diversi da, niente, era un test, adesso penso che sia tutta un'altra cosa, uno perché, vabbè, loro sono comunque delle giovani promettenti, perché comunque sono tutte abbastanza fisicate, noi dobbiamo pensare a fare noi bene, a gridirle fin da subito, dalla battuta, fare il nostro gioco, e quindi limitare il loro gioco. Insomma adesso, dopo due o tre giornate, insomma qualche cosa è... Sì, va un po' meglio, dobbiamo ancora fare tanto lavoro insieme per conoscerci meglio, però sicuramente va meglio di tre settimane fa, di quattro settimane fa, ogni allenamento, ogni giorno si lavora, si lavora bene per migliorare questo, quindi bene, speriamo. Grazie, bocca al lupo, ciao Monica, ciao.